Preleva dal bancomat con una carta di credito rubata, ma arriva all'sms alla vittima del furto e così per il ladro sono scattate le manette. È successo ad Arezzo nel tardo pomeriggio di giovedì. Il malvivente infatti prima si era introdotto all'interno di un'abitazione di via Fabio Filzi, aveva svuotato il borsello della vittima e poi si era dato alla fuga. Ad accorgersi del maltolto, denaro e carte di credito, il proprietario una volta rientrato in casa. Ad incastrare il malvivente poi è stato un sms. Poco dopo sul cellulare della vittima è infatti arrivato un messaggio d'allarme che lo avvertiva di un prelievo al bancomat. A quel punto sono state allertate le forze dell'ordine. Grazie alla preziosa informazione, gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo, guidate da Luigi Stanzione, sono così riuscite a sorprendere il ladro con le mani nel sacco, poco distante dallo sportello bancario in questione. Per il ladro un 55enne italiano con numerosi precedenti sono scattate le manette con le accuse di furto in abitazione, in debito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale.